Il San Giovanni che è ripresa quest'anno qui all'Escudino ha cambiato posto rispetto al San Giovanni storico, però una volta era proprio qui. E' bello che queste tradizioni riprendano e che come questa magari ci siano tante altre feste per il rione. Sono molto contento che sia tornata la festa di San Giovanni e che sia tornata all'Esquilino, uno spazio molto bello pieno di tante associazioni e di persone che hanno voglia di fare e di darsi da fare per il rione e quindi una bella festa da vivere tutti insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti.